La partita è stata un po' strana, un po' come da solito. Abbiamo avuto dei momenti alti, bassi e siamo partiti abbastanza bene, però abbiamo perso questo primo set che ha messo un po' di dubbi nella nostra testa per il secondo set e poi ci siamo ripreso molto bene con l'aggressività e il fatto che non abbiamo lasciato niente cadere. Sì, è vero che con la difesa abbiamo funzionato molto bene e poi dopo il secondo set siamo stati sempre lì con la testa giusta e l'aggressività come ho detto era molto importante. L'energia che abbiamo trovato alla fine del secondo set è stata molto importante per vincere questa partita. Ha cambiato tutto secondo me l'energia che abbiamo riuscito a trovare. Sì, Killer Instinct l'abbiamo avuto, l'abbiamo cercato, abbiamo aspettato un po', ci siamo guardati un po' e poi fino nel secondo set l'abbiamo trovato per andare a cercare questo secondo set che siamo partiti male. L'abbiamo trovato questo Killer Instinct e non l'abbiamo più lasciato, l'abbiamo tenuto per noi e siamo andati a cercare i tre punti. Sì, sarà tosta, la partita di Piacenza ha una squadra che vuole vincere, hanno degli obiettivi molto alti, dobbiamo prendere questa partita per allenarci a trovare delle soluzioni contro una squadra forte, contro dei muri molto alti, delle battute molto potenti, come abbiamo fatto a Perugia, ci hanno mancato poco poco, allora quando avremo trovato queste poche cose che mancano, allora potremo andare a cercare dei punti contro delle squadre come Piacenza. Possiamo farlo, dobbiamo prendere la settimana che arriva per lavorare e andare con la testa giusta e con tanta aggressività e energia come abbiamo finito questa sera. Grazie.